Buongiorno buonasera a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o bentornati sul canale questo è un nuovo video della serie di minecraft vita quest'oggi avevo pensato di andare nel nether siccome da tantissimo che non ci andiamo ci siamo andati solo una volta e però volevo prendere intanto un po' di glowstone perchè ci serve anche per nel punto di là che stiamo facendo che abbiamo fatto negli scorsi video e volevo dirvi che ho trovato 4 o 5 diamanti vabbè però voglio andare una volta con voi così facciamo anche un episodio in miniera e quest'oggi ci facciamo una spada la prima spada in diamante tanto con la spada si usano solo 2 diamanti e quindi poi basta solo andare una volta e mi sono già rifatti i diamanti quindi questo qua lo lasciamo qua poi ci servirà un arco che forse abbiamo anche qua eccolo qui che facciamo con questo vabbè abbiamo 6 frecce però un po' cringe poi un piccone di ferro no anche più di uno facciamone due piccone di ferro due piccone di ferro una crafting table che non abbiamo che ce la facciamo subito e ci portiamo magari un po' di legno ok ci portiamo questo ok e anche questa perfetto possiamo andare tanto il letto non ci serve perché nel nether no si può dormire e possiamo andare era da un po' che non andavo nel nether ragazzi ok allora eccoci qua qua non vediamo niente perché ho i chunk bassi ah cavolo mi sono dimenticato ragazzi il pezzo di armatura di d'oro e e e andiamo a prenderlo devo andare a prenderlo mi sa proprio di si oppure qua c'è qualcosa eh perfetto perfetto non potete andare meglio quindi andiamo mettiamo una crafting table qui ci facciamo vabbè i gambali tanto non cambia niente e ce li mettiamo qua c'è qualcos'altro un po' di ossidiana sabbia delle anime acqua no non c'è niente un po' di ferro ci facciamo subito e poi basta ci portiamo la crafting table e andiamo a cercare magari un po' di glowstone in qualche punto un po' più safe e magari anche un po' di quarzo ok però mi devo segnare le coordinate perché forse l'ultima volta l'ho meno segnata e ci ho messo un anno a tornare quindi mettiamo le coordinate va ok coordinate prese questa volta dove andiamo andrei di là andiamo a provare di là tanto qua abbiamo un bel po' di cobblestone che prendo subito per farci qualche scala che ho fatto ho fatto volevo anche trovare dei blades che abbiamo già trovato abbiamo già trovato dei cioè un come si chiama una fortezza ecco però non mi ricordo dove sia perché era un casino di epiose di fa era appena uscita la 1.16 ora vediamo un po' se mi ricordo è estinto devo vedere la cobblestone vediamo un po' allora se non sbaglio si partiva di qua poi di qua si andava qua sto facendo a caso eh ragazzi poi di qua si andava di qua dovrei vedere la cobblestone se stiamo andando nella parte giusta eccola lì la cobblestone ok forse avevo già fatto un segnale una T poi di qua ok ok quindi proseguiamo per di qua che c'è questa cobblestone che avevo messo ok magari mettiamo un po' ecco l'avevo già messo eh ok e qua vediamo un po' eccolo forse qua c'è un pigman c'è un ghast di qua vediamo un po' no di qua sto non di qua ok eh forse di qua questa scaletta l'avevo trovato totalmente a caso qua sotto ho visto della cobblestone no è della clay va bene allora andiamo un po' qua sotto vediamo dove stiamo andando perché può essere anche che non è il punto giusto di qua no dimmi che dimmi che non ho sbagliato per favore vabbè torniamo indietro e vediamo un po' dove ci portava un altro punto magari che non era l'unica scala forse ah si di qua perfetto eccoci sono molto stupido perché non ho preso un uno scudo però vediamo cosa riusciamo a fare qua magari ampliamo lì ci sono degli quanti sono no no non iniziamo non iniziamo non iniziamo veramente perché qui se no finisce male allora quanti sono sono tre quattro forse ne ho visto anche un altro perché devo beccarmi contro tutti questi vabbè ci mettiamo i stivali questi così proviamo a aggrarli e uno è morto con tre colpi muoiono eh ci vado di spada ragazzi loro ci fanno un casino di danno no no non in due non in due ragazzi non in due per favore proviamo no proviamo ad andare sempre di qua ok vai ci siamo ok voglio ho pure rubato una spada ok per questo morto c'è qualcun altro non credo prendiamo questo freccio ok purtroppo non c'è andata una testa ma vabbè ci credo ok allora qui ci mettiamo un po' di cobblestone laggiù c'è un pigman qua ero già salito ma non credo fosse qua la cosa dei blades forse di qua può essere non sono sicuro magari è sopra di qua non c'è nulla perfetto allora dobbiamo un po' cercare perché dall'altra volta non mi ricordo più niente qua c'è un po' del nuovo bioma coprendiamo la glowstone siccome ce l'abbiamo qua e anche un po' di quarzo magari ok allora di qua forse cioè può essere anche di qua no forse non facciamo così togliamo questo ok forse di qua vado a istinto ah perfetto qua non c'è niente ma proprio niente 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 vero? no qua non c'è nulla vabbè continuiamo ad andare avanti magari un po' d'oro lo prendiamo c'è pepite queste sono non è che però meglio di niente giusto? 20 ok abbiamo due stack di polveri di clawstone non credo ci siano pig qui l'astro oddio vai via vai via vai via vai via vai via vai via ragazzi me lo sono trovato in faccia ok allora dobbiamo mettere le torce allora una volta mi ricordo forse non mi ricordo se ero in questa serie o ero da solo avevo messo le torce ma continuavano a spawnare e boh non capisco il perché allora qua vediamo cosa c'è un po' d'oro e una sella va bene qua c'è un blade bom scomparito qua sotto vediamo se queste ceste ok l'avevo già presa queste ceste devo trovare lo spawner ok qua c'è un c'è uno di questi ok che non mi viene ma anche il nome c'è un po' di carbone uh una corazza d'oro ok qua ok un'altra corazza d'oro che non prendiamo perché tanto non ci serve poi qua sopra bello qua sopra come spot ok morto perfetto non ci ha dato niente però non ci lamentiamo ok mettiamo un po' di torce magari che qua se no non si vede niente ho visto qualcosa qua vabbè ok poi andiamo avanti qua non c'è nulla ok vabbè abbiamo illuminato un po' perché se no poi non si vede nulla spero che voi vediate tutto allora qua vediamo un po' mettiamo un po' di torce questi semi qua ce li abbiamo già c'è la verrucchia del nether vediamo un po' cosa c'è dentro altre cose che non ci servono però vabbè ok torniamo indietro mi sono già perso no dimmi no ok qui c'è un po' di gente potrei andarci proprio proprio potente infatti ci andrò proprio potente con due blades dai 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 e muorici muorici ok perfetto ci prendiamo possiamo toglierli perfetto progresso compiuto ci mettiamo dei blades qua cioè sì dei blades delle torce scusate ok abbiamo ucciso un blades e abbiamo preso una verga di blades dovremmo fare anche la farm di blades ovviamente perché sono dopo le alghe no dopo la lava e prima delle alghe sono il combustibile migliore oh due diamanti ragazzi così a caso due diamanti perfetto ci siamo ripagati la spada togliamo vabbè i mattoni del nether che non ci servono prendiamo questo un acciarino un acciarino potrei prenderlo perché mettete che si spegne il portale oh buongiorno magari tu mori velocemente ok bravissimo oh ciao sta giocando a nascondino questo ok prendiamo altre cose di ferro d'oro che ci serviranno per fare i trade magari potrei fare anche in off camera dei trade con i villager no non con i villager con i pig pig villager non so come si chiamano ok qua mettiamo delle torce mettiamo delle torce dove stiamo cioè dove siamo già andati magari così almeno non qua ci siamo già andati vero si ci siamo appena andati prima infatti qua ci sono già le torce qua sotto ci sono già andato ok giusto per non perdere la via però abbiamo poche torce mettiamo magari la cobblestone va ok qua forse era qui qualcosa ok facciamo così le porte che abbiamo già fatto ci mettiamo una cosa in mezzo laggiù ci sono dei dei dischietri laggiù poi andiamo a vedere prima mangiamo va perchè sennò non possiamo curarci ok ci andiamo subito di brutto ok no no mi ha beccato sto qua no raga mi ha beccato cosa mi dà già non mi ricordo avvizzimento va bene ok qua è il punto dove no aspetta un secondo ma fammi accidere almeno l'altro ok allora qua ci dovrebbe essere lo spawn ok di se questo di blades ok perfetto eh ma vedi che vedi che spawnano lo stesso non capisco perchè non capisco perchè spawnano lo stesso ragazzi cioè ditemelo voi magari sapete perchè ci provano a stare un secondo qua e vedere se spawnano di nuovo magari ecco pure due c'è cavolo ok distruggiamo pure questo perfetto abbiamo due verghe qua aspettate facciamo così va è il carissimo spawner di blades ok questo abbiamo preso io farei un salto alla foresta qua sotto cioè qua sopra non so per prendere un po' di legno perchè mi piace molto e poi abbiamo finito vediamo se c'è qualcuno ok forse abbiamo anche no cavolo l'ho lasciato di là qua c'è un pezzo di ossidiana a caso spero di non trovare i pigling giusto no i scusate i i pigling no no non mi ricordo vabbè comunque prendiamo un po' di legno potremmo farci qualcosina addirittura un attaccato all'altro ok questo qua possiamo anche prendercelo o forse così si tolgono si va bene che si chiamano togliamoci magari questi ce li mettiamo e ci togliamo una spada di pietra si chiamano funghi luminosi fungo lume ok per ripiantarli serve il fungo questo qua ok che prendiamo subito aspettate togliamo un po' di cose togliamo questo carbone ok beh e dovremmo anche passare degli enderman ne ho presi un bel po' di enderman ragazzi infatti ne ho 16 più 5 4 quindi con i blades possiamo già iniziare a cercare il portale del land e con il la farm di oh lì c'è un po' di blades spero non mi sparano già di cui mi sparano va bene oh cavo starola ok qua ci sono dei pigling ma da lontanissimo mi sparano vabbè comunque con i blades con la farm di oddio qua c'è un altro fungo va bene con la farm di di mob prendiamo dell'esperienza e possiamo andare benissimo nel land qua ci andiamo proprio di brutto perché scompaiono i blades così a caso qua ok ci diamo un altro buongiorno 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 ok ho paura di questo che mi sembra mai oh una testa ragazzi una testa ok 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 perfetto abbiamo trovato una testa di di wither perfetto già iniziamo con una mamma mia ragazzi perché per chi non lo sapesse il wither è quello no diciamo un altro boss di minecraft mi sono visto partire una fiamma accanto vabbè meglio che se ne andiamo perché se no qua il video finisce male ok devo fare anche un percorso più decente magari facciamo una cosa così ok e passiamo di qua ritandoci anche questo come passaggio e lo allarghiamo giusto per non cadere sempre magari no ragazzi l'ho detto l'ho detto l'ho detto che colpo mi è venuto eh allarghiamo va perché se no qua cadiamo di nuovo no ok ma magari stoppiamo il flusso di questa lava che non ci fa bene magari facciamo una cosa così così si vede possiamo andare perché c'è un blocco lì a caso va bene possiamo tornare a casa e già che ci siamo no vabbè quello lo faccio in off camera gli scambio in off camera i pezzi di oro ok ce ne possiamo andare via oh qua c'è un piccolo buongiorno devo anche fare una scala più carina ok allora possiamo fare così poi così poi così poi così così ed eccoci arrivati qua quindi togliamo un po' di netherrack e torniamo a casa mangiamo intanto posiamo la testa del wither che mettiamo qua al centro intanto è gialla non sapevo che fosse gialla il 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 testo blaze qua legno 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 questo lo lasciamo qua giù ci prendiamo delle torcia l'alluminite ce la prendiamo subito ce la facciamo poi l'alluminite la mettevo qua giusto ok poi gli ossi che ci serviranno cioè ci servono poi la lacciarino lacciarino la lascio qui del nether questo del nether ci facciamo subito il quarzo no non qui ma qui ah aspettate la testa del wither la metto magari in quelli del nether poi i diamanti li mettiamo qua che abbiamo trovato due diamanti poi oro la corazza d'oro che la mettiamo ad uno di questi due vediamo chi sta meglio forse questo si si meglio a questo qua che è già oro questo già cos'è ah quelli delle gli stivoli delle anime ok potevo prenderli ma vabbè fungolume che mettiamo qui che potremmo magari utilizzarlo per qualcosina poi funghi funghi bardature e abbiamo finito credo mettiamo ancora un po' di luminite qua dentro ah che tra l'altro l'avevo già però vabbè ok ragazzi quindi spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel mi piace commentate con quello che volete vedere nei prossimi video iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video e dal sino di tutto ciao iscrivetevi al canale